I1 Display Pro e il colorimetro che in abbinamento al software I1 Profiler di X-Rite ci permettono di creare un accurato profilo colore del nostro monitor. Avere un preciso profilo colore del monitor è il primo passo e fondamentale per una corretta gestione colore delle nostre immagini in post produzione. Nella confezione troviamo il colorimetro I1 Display Pro e il cd di installazione del software I1 Profiler. Il software ci permette di pilotare il colorimetro nella creazione del profilo colore monitor del nostro computer. Colleghiamo il colorimetro I1 Display Pro alla presa usb del nostro computer e avviamo il software I1 Profiler. Vediamo come creare il profilo colore del nostro monitor. Possiamo scegliere tra due modalità base o avanzata. Iniziamo con la modalità base che è quella più semplice e che ci permetterà di creare il profilo colore in modo automatico. Dopo aver fatto clic su base facciamo clic qui a sinistra sul pulsante profilatura display per iniziare il processo di creazione del profilo colore. Il software rileva in automatico il monitor collegato al colorimetro e anche la tipologia del pannello lcd. Come valore di punto di bianco possiamo lasciare impostato d65 e anche come valore di luminanza possiamo lasciare impostato 120. Sono valori standard per la creazione di un buon profilo colore. Portiamo il mouse sui nomi delle varie regolazioni da impostare. Vediamo che nella parte sinistra della finestra compariranno delle utili spiegazioni sul significato delle varie regolazioni. Un'ultima opzione presente in questa finestra è la possibilità di attivare la misurazione della luce ambiente da parte del colorimetro. Questa è un'opzione che potete attivare solo se attorno al vostro monitor l'illuminazione è stabile e controllata nel tempo altrimenti il consiglio è quello di non attivarla. Il passo successivo è iniziare la procedura di misurazione. Possiamo fare clic sul pulsante avanti o sul pulsante misurazione qui in basso nella finestra. Prima di avviare il processo di calibrazione del monitor dalla finestra misurazione vi consiglio di lasciare il segno di spunta alla voce controllo automatico del display ADC attraverso il software ADC di X-Rite che si prenderà cura di ottimizzare al meglio luminosità e contrasto del vostro monitor. In alternativa è possibile regolare manualmente la luminosità e il contrasto. Andiamo a fare clic sul pulsante avvia misurazione per iniziare il processo di calibrazione del nostro monitor. Prima di iniziare la procedura di calibrazione del monitor due avvisi ci informano di come deve essere collocato in modo corretto il colorimetro sulla superficie del monitor cioè qui a contatto diretto con il pannello LCD diciamo ok e in queste tre illustrazioni la necessità di ruotare la lente del colorimetro. Dobbiamo quindi ruotare e liberare la lente del colorimetro come ci viene indicato dal segnale lampeggiante prima di posizionarlo sulla superficie del nostro monitor. Ci portiamo sul pannello in alto a sinistra e facciamo clic sul pulsante avanti. Prima di creare il nostro nuovo profilo monitor dobbiamo dare un nome al profilo, scegliere se attivarlo a livello utente o a livello di sistema quindi per tutti gli utenti del nostro computer e se attivare un promemoria, un avviso che ci ricordi dopo una o fino a quattro settimane oppure mai la necessità di produrre un nuovo profilo colore. Infatti i profili colore andrebbero rifatti con una certa regolarità. Andiamo a cliccare su crea profilo e salva per creare il profilo colore del nostro monitor. In quest'area della finestra di creazione profilo abbiamo la possibilità di valutare il nuovo profilo rispetto al profilo precedentemente installato sul nostro computer. Abbiamo due pulsanti, un prima e un dopo. Abbiamo anche la possibilità di valutare il profilo su immagini differenti anche in bianco e nero. Il primo pulsante di questa area ci permette di visualizzare in modo tridimensionale nello spazio lab il nostro nuovo profilo monitor mentre qui abbiamo una rappresentazione delle modifiche apportate alla scheda grafica. Possiamo cliccare quindi su crea profilo e salva per concludere la procedura di profilatura del nostro monitor. Se abbiamo attivato la misurazione della luce ambiente al termine del processo di misurazione dei colori campione ci verrà chiesto di posizionare il colorimetro sulla base della nostra postazione di lavoro in modo da effettuare la misurazione della luce ambiente. Dobbiamo posizionare il colorimetro sulla base della nostra postazione di lavoro vicino al monitor. Lo stacchiamo e ruotiamo la lente al di sotto del diffusore opalino e poi la avviciniamo. Scompare l'avviso lampeggiante posizioniamo il colorimetro nei pressi della postazione di lavoro. Abbiamo il nostro colorimetro nella zona di lavoro andiamo a fare clic qui nell'area in alto a sinistra sul pulsante avanti per attivare la misurazione della luce ambiente. Attiviamo la modalità avanzata facciamo clic sul pulsante avanzata e poi andiamo a fare clic qui in alto a sinistra sul bottone profilatura display. Nella modalità avanzata abbiamo una maggiore personalizzazione delle funzioni del programma i1 profiler. Possiamo registrare cinque flussi di lavoro uno per ogni fase della creazione del nostro profilo colore monitor più un flusso di lavoro complessivo di tutte e cinque le fasi. Per salvare un flusso di lavoro con i valori impostati in ogni singola finestra dobbiamo fare clic su salva. Per caricare un flusso di lavoro registrato in precedenza facciamo clic su carica oppure andiamo a trascinare semplicemente il documento memorizzato all'interno dell'area dedicata alla registrazione dei flussi di lavoro. Nella finestra impostazioni schermo della modalità avanzata possiamo regolare e personalizzare il contrasto del monitor cioè il contrasto tra i bianchi e i neri visualizzati lasciando quello originale scendendolo personalizzato nell'ipotesi che si lavori con due monitor o più monitor o ottimizzare il contrasto del monitor in base al profilo della stampante. È anche possibile attivando questo segno di spunta sulla correzione dei bagliori ridurre i problemi dovuti alla riflessione di luci del monitor sullo schermo stesso. Nell'area impostazioni profilo abbiamo le quattro impostazioni da dare al nostro profilo colore. Possiamo lasciare i valori predefiniti e eventualmente scegliere un profilo a tabella più grande di quello del tipo a matrice ma con una maggiore precisione. Nella sezione insieme di patch possiamo scegliere quanti colori utilizzare nella caratterizzazione del nostro monitor. Abbiamo diversi insiemi che vanno dal piccolo al medio al grande. Possiamo utilizzare tranquillamente l'insieme con il maggior numero di colori per una maggiore precisione del nostro profilo colore. Oltre all'insieme dei colori campioni è possibile creare un profilo colore anche sulla base di colori pantone spot caricandoli all'interno di questa finestra o sulla base di un'immagine. Quindi creare un profilo colore con riferimento a una specifica fotografia. Dopo aver scelto quali insieme di colori campioni utilizzare per la caratterizzazione del nostro monitor andiamo a cliccare sul pulsante misurazione. Possiamo lasciare il controllo automatico del display al software ADC DXRite che si occuperà di regolare al medio luminosità e contrasto del nostro monitor oppure attivare una procedura di regolazione manuale guidata sempre attraverso il software i1 profiler. Dopodiché possiamo fare clic sul pulsante avvia misurazione per creare il nostro profilo colore monitor.